Nata e cresciuta a Mediglia, un paese della provincia di Milano, all'età di 24 anni vince un concorso in polizia locale, si sposa e dal matrimonio nascono due figli. Nel 2003 inizia la carriera artistica prodando al teatro con varie commedie. Nel 2009 inizia il percorso di transizione che si conclude nel 2012 con l'intervento di cambio di sesso diventando così la prima poliziotta transessuale italiana. Nel 2010 entra a far parte della compagnia teatrale Atopos con lo spettacolo Variabili Umane. Sempre nel 2010 vince il premio Dante Cappelletti a Roma. Nel 2014 fa parte del cast del film The W Wrong Way e nel 2015 è coprotagonista del film Sei tutto quello che voglio. Sempre nel 2015 è attrice nel film Milano in Decage, film presente al 69esimo Festival di Cannes come Opera italiana nello spazio Italian P.A.V.I.L.I.O.N. dell'Istituto Luce C.I.N.C.I.T.A. e alla 73esima mostra Internazionale d'arte cinematografica La Biennale di Venezia 2016 La cui uscita è prevista per il 2016. Il 13 gennaio 2016 ha portato in scena The Gender Show al Teatro Franco Parenti di Milano. Protagonista di varie trasmissioni televisive come Il Testimone su MTV.